Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono DigiBricio, oggi sono su Rainbow Six Age Cerchiamo subito una partita sperando di ritrovarci in un matchmaking fatto bene Questo è un video di test ragazzi Perché sto provando a vedere Youtube dove mi mette questo gameplay Visto che sono uscite le nuove regole Modalità nuova, restrizione Voglio vedere se questo tipo di gioco qua mi rientra in una modalità restrizione Visto che ci si spara addosso e c'è sangue e tutto Vediamo un po' Vediamo un po' Tra l'altro ragazzi non si possono più dire parolacce Quindi non posso più dire niente Cavolo, ecco cavolo posso dire cavolo Un alimento quindi il cavolo lo facciamo a posto Allora Non so se utilizzare Jekyll Voglio usare il cecchino dai vai Voglio usare il cecchino Chi se ne frega tanto devo solo vedere se E non devo più dire parolacce quindi non posso più dire Asso, non posso più dire Devo dire odore in poi acci d'erbolina, acci picchia, porca loca bisa e tutte queste cose qua Ecco, perfetto Era un livello alto E abbandona la partita Ma vai a spingere la giostra ragazzi Che poi non è colpa del texture ultra Perché io una volta ho messo texture ultra Ma si il caricamento mi caricava Ci metteva un attimo di più Non era istantaneo come adesso ma Però alla fine Però alla fine Caricava E non ci metteva tutto quel tempo Che ci mettono gli altri E si che io ho un intercorri 74770 E una GTX 750 Da 1 giga Quindi voglio dire Con testo ultra dovrei essere in crisi al massimo Il gioco mi andava fluido Come adesso E non avevo problemi E non avevo problemi di Di caricamenti Quindi bah Allora io voglio fare il giro dall'altra parte Paff Beh terra che qua Vabbè dove 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 sto Dove sto andando io Porca miseria Quanto Guarda 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 Ok dai che tra l'altro Che sto anche pisciando Adosso tipo ecco C'è stato individuato da cosa, dov'è qui il coso? Che non me lo ricordo mai Needs backup man Kill him in the stairs, stairs, stairs Rimane un nemico Tira a topo io Tira a topo io Devo ricaricare Attività nemica, tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Lo abbiamo fatto fuori, ok Perfetto Non so perchè il primo colpo non è neanche entrato o si? Perchè ho fatto un po' fatica, si che l'ho beccato addosso, vabbè Allora adesso direi di utilizzare Pulse Andiamo su Pulse Che Caveira sinceramente ultimamente non è che mi piaccia tanto E' un po' C'ha quel mitra lì che ha un Un ratio di fuoco che è un pochino basso Non sta nincendo in terra Difendete la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Dai Muro rinforzato Muro rinforzato Barrico Un nemico ha trovato il contenitore di biorischio Dov'è? Dov'è? Vai a cagliacca Eh vai a A farti un giro Vai a farti un giro Vai a A saltare Vai a saltare Scusatemi se no poi youtube Rimangono 10 secondi Se no qui poi youtube mi Mi castra il video Vabbè che tanto Col culo che amo me lo castra lo stesso Boh dove vai? Vabbè va a fare un brodo anche te Uso il sensore cardiaco Mi chiamo un boss qua Uh ecco Mi carico Nitro piazzata Ho fatto un po' una cavolata ragazzi Eh perfetto Il nemico sta prendendo il contenitore Un operatore alleato rimasto Sono rimasto fermo ragazzi perché tanto ero spacciato Se correvo lì mi beccava subito Mi beccavano questi se correvo Vabbè Lasciamo perdere Veramente Ehm Glass Glass Lei che prima sono andato bene con glass Anche se ne ho ammazzato solo uno ma Pace amen Speriamo che youtube quando dico glass non capisca qualcos'altro Perché se no Guardate che bello ragazzi L'ho fatto io questo ragazzi Vi consiglio Ho fatto anche il video su come Costruire il fidget spinner Vi consiglio di andarlo a vedere Pubblicità occulta del mio stesso canale Dove cappieri sono i nemici Sono qua sono qua sono qua sono qua Eccoli qua Si Ok 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 Dai 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 che sono in un buon punto lì Aspetta vediamo se riesco a fare quello che Mi ha insegnato Alluc Il nostro amico Alluc La nostra guida Allora aspetta facciamo così Ok dobbiamo andare poi Dobbiamo andare su qua Non mi ricordo più come si fa No Ce l'avevo Dai Ce l'avevo Mi era saltato fuori Scavalcheare Non mi fa scavalcheare Vaffanculo Vabbè dai vaffanbrodo ragazzi Oh ma che cavolo Che non muore Uso una granata fumogena Uso una granata fumogena Ma porca vacca Non muoiono No Sei stato individuato Ma sai a me che cosa A me ne frega di essere Eccolo qua Toh Individuami adesso se riesci L'ultimo uomo per la squadra alleata Ci godo Ci godo Ci godo Sono un po' scarso con sto secchino ma Ci prenderò la mano Dai c'è una mira del cavolo Comunque Dai Va bene così Allora pulse Pulse non è che mi sia piaciuto Bandit però potrei prendere Che elettrizziamo le varie cose Aspetta si dai Prendiamo bandit vai Hello team Chi? Ah ha salutato il team Vabbè Ciao 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 Where are you from? Dobbiamo proteggere il contenitore Italy Difendete la stanza Eh? Non ho capito niente Non ho capito niente ragazzi Andava a scatti La sua voce andava a scatti La sua voce andava a scatti Allora se qualcuno mi mette qua Siamo a 10 secondi Che cavolo Perchè non Perchè non me lo fa mettere? Ah perchè non c'è niente da elettrizzare Proteggete il contenitore Miglio rischio a tutti i costi Ah basta Gli ho già finiti cavolo Perchè non ho avvistato un terzaio Ecco bene Quanto è odioso fu No più che altro vorrei sapere perchè non ho sentito Che stava applicando il coso che lanciano poi le bombe Di solito Di solito Di solito gli altri mi sentono Delle di Come on help him Ma chi è sto vuoi? Questo è zitto Oh my god Come on help him Ma help him cosa? Help him Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore Resta solo un operatore alleato Bene He's in there Oh 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 E' già persa Il nemico sta difendendo il contenitore di biorizio E' già perso Cioè non è che Ragazzi è andata così E' stata persa questa così Cioè non è che E' grazie al Accidenti abbiamo perso Glass Ok Non ho più capito cosa ha detto perchè Stavo facendo confusione perchè stavo mettendo i rinforzi La sua voce andava un po' a scatti E non ho capito niente Mamma mia ragazzi quando mi lancio Quando mi lancio Col drone Mi da la sensazione di vuoto proprio Proprio Cioè mi viene fastidio come Mi fa sto effetto Come nella realtà Comunque 10 secondi all'inserimento No mi ha visto Ciavo 5 secondi all'inserimento Ci ho messo troppo Raggiungete la posizione Basta ragazzi non taggate più i nemici Che altrimenti poi vi beccano Nuovo caricatore Non c'è Eh ah beh Non c'è L'ho beccato ma non riesco mai a beccarli in testa Vaffan Brodo Ti avevo sentito brutto Stronzo Odiosi quando scappano fuori così Questa è stata una bella mossa Però sono stato bravino eh Non mi sono lasciato Uuuu Mamma mia Che colpo Fuori un fumaceno Dai quanto siamo? Due contro? Tre Perchè? Perchè? Lo sapevo Perchè non ho guardato lì il cavolo ragazzi Perchè non ci ho guardato Lo so che lì c'è quella finestra maledetta Perchè? Non ci ho guardato Porca vacca Beh comunque io ho fatto una bella partita tutto Insomma ho fatto 5 uccisioni quindi Vaffanbrodo E' il resto della squadra che ha fatto schifo va Quei due lì per esempio Celle Sto qua che sa solo fare a parlare Basta Beh ragazzi Io direi che per questo video è tutto Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace Condividete e iscrivetevi al canale Spero che youtube non lo metta Anzi spero che youtube lo metta nella modalità restrizione In modo che siano tranquilli Che so che questo gioco qua Viene preso bene da youtube Sempre se è già attiva questa regola Perchè non lo so Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti